Assessore, il primo infoturist che viene istituito a Gela trova il suo spazio all'interno del Museo Archeologico Regionale sfruttando l'alternanza scuola-lavoro con gli studenti della classe accoglienza dell'Istituto Alberghiero che si alterneranno all'interno di questa postazione per dare informazione ai turisti non soltanto su questo presidio archeologico ma anche sui servizi offerti dalla città di Gela. È un passo in avanti che facciamo insieme, la Proloco, le associazioni, il CESVOP insieme e alla presenza dell'amministrazione comunale. Sì, l'attività di infoturist è fondamentale soprattutto per una città che sta cercando faticosamente di avviarsi nella direzione dello sviluppo economico anche attraverso questo settore che è fondamentale, il turismo. L'invoturist è anche una postazione direi determinante in questa direzione che ben si sposa con ciò che sta facendo l'amministrazione che poi dovrà rapportarsi anche con questo invoturist quello di mettere insieme i comuni di Piazza Armerina, Caltagirone, Niscemi, Ricata, Vittoria eccetera per scambiare informazioni reciproche sia sui siti, sia sulla ricettività, sia sui servizi che ciascun comune dà. Questo direi che è importantissimo insieme al fatto che per esempio stiamo preparando una brochure di territorio non solo della città perché ci siano degli itinerari che mettano insieme le diverse città quindi l'attività di questa postazione direi che è fondamentale e quindi mi fa molto piacere questa iniziativa che le associazioni prendono con la quale certamente collaboreremo per mettere insieme anche strumenti anche di tipo informatico eventualmente per mettere insieme tutte le informazioni nel territorio. Noi in questo momento stiamo per presentare il SIT, il sistema informativo territoriale dove convuliranno tutte le informazioni anche non necessariamente di tipo cartografico, PRG e quant'altro ma ogni tipo di informazione che riguarda il territorio. Tra queste c'è anche l'informazione turistica. Quindi il SIT è un sistema che con quello che è l'obiettivo di questo InfoTourist sicuramente si lega perfettamente e quindi direi che anche questa è un'ottima occasione per cercare di mettere a rete tutto ciò che anche volontariamente molto spesso nella città si fa ed è il motivo per il quale ci sentiamo anche orgogliosi di essere di questa città.